I pregi Dubai quali sono? Sicurezza. Basterebbe solo questo, basterebbe dirvi sicurezza e già annullerebbe tutti i difetti. C'è un livello di sicurezza Dubai ma se andate su internet, su YouTube, intanto se non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube, c'è qua il QR code se non sbaglio qui in alto, entrate nel gruppo Facebook gratuito, parliamo di self eccetera eccetera. Ok? Come andare a guadagnare online con il self publishing. Ciao Simone. La sicurezza a Dubai è estrema, andate su YouTube e li vedete i video, gente che lascia il telefonino, noi l'abbiamo visto eh, di personale non l'ho mai fatto, noi non l'abbiamo mai fatto perché abbiamo questo retaggio mentale all'italiano dove sei abituato che se tu lasci una cosa lì, io lascio il telefono qui, tra tre secondi, come mi volto, il telefono non c'è più. Perché abbiamo, ormai siamo indottrinati con questa mentalità. C'è veramente gente, visti, ok? Lascia il telefonino, l'abbiamo visto nel parco che c'è qua di fronte sulla palma, lascia il telefonino e va a correre. Non è che fa lo scatto di fronte, lascia il telefono, corre, c'è un anello lungo, un chilometro e mezzo, ok? Ritorna, c'è il telefonino, portafoglio, chiavi della macchina. Ho avuto amici che venivano a trovarmi a casa, avevano dei soldi da portare a casa, lasciavano i soldi in una busta sul cruscotto. È capitato, anche con mio padre, presente qui a Dubai, tre, quattro anni fa, aveva dimenticato il portafoglio in macchina, sul sedile visibile, correva come un pazzo per andare a prendere il portafoglio. No, dobbiamo tornare in macchina, recuperiamo il portafoglio, mi rubano, mi fanno, spaccano il vetro. Tranquillo. Lascia il portafoglio dov'è, è più sicuro lì che non se te lo porti indietro che magari ti può cascare e lo perdi, ok? Qui non tocca niente, nessuno, è difficile da credere, ma se è capitato a Dubai, provate, fate un esperimento, poggiate un oggetto di valore, noi l'abbiamo fatto qualche volta per sperimentare, accompagnando i bambini, chissà che i bambini vogliono l'Happy Meal, queste cose qui, devi andare a ordinare, abbiamo lasciato il telefonino sul tavolo per occupare il tavolo, e qua è una cosa frequente da vedere, lasciare il telefonino sul tavolo e nessuno, i primi se non vi toccano il tavolo, non vi rubano il posto, men che meno il telefonino, quindi c'è un livello di sicurezza estremo, veramente estremo, ok? Pulizia, se andate su YouTube ancora, cercate i video, c'è gente che cammina scalza con dei calzini bianchi a downtown di fronte a Burj Khalifa e poi dopo che ha fatto una camminata di un'ora, si alza i piedi, si controlla là sotto perché sono sporchi e i calzini sono puliti, c'è un livello estremo di pulizia, roba mai vista, vediamo spesso questi inservienti che puliscono le scale mobili, c'è il panno in continuazione, oppure gente che pulisce la sbarra, avete presente quando si entra nei parcheggi, no? Mi puliscono la sbarra, puliscono, è una cosa incredibile, veramente indescrivibile, quindi livello di sicurezza, pulizia, gentilezza, quindi correlato anche discorso pulizia, c'è un, ci sono dei livelli anche qua, livello di gentilezza pazzeschi, gente che quando tu fai un pagamento con la carta, dopo noi non ci facciamo più caso dopo un po' di anni, mi danno la carta così, cioè ve l'appoggiano, non ti danno la carta così, te l'appoggiano lì così, no? e questo è impareggiabile, io so già che se in estate torno in Italia, devo prepararmi a battagliare, a battagliare per tutta l'estate con gente che gli sto facendo un favore se sto andando a fare shopping, che ti guardano storto se stai facendo una cosa che non gli garba, ogni cosa è una battaglia, ok? Quindi gentilezza, ok? e servizi funzionanti, e tu dirai grazie a cavolo, stai pagando, questo è uno dei vantaggi di pagare, no? Sanità, che tra poco affrontiamo, affrontiamo un discorso sanità, prendi una visita, noi abbiamo fatto delle visite per la bambina pediatriche, alle ore 12, prenotata alle 10, no? Tutto estremamente funzionante, vai lì, tutto molto smooth, vai, prenoti, tutta visita, il dottore quasi mai c'è ritardo, tutto preciso, perfetto, funzionante. ospedali con sale d'aspetto tra uomini e donne, però devo dire che a Dubai, negli altri milati forse sì, a Dubai non è molto rispettata questa divisione, capita spesso di vedere uomini seduti nell'area, nella female waiting room o viceversa, tutto estremamente funzionante.